I carabinieri del comando provinciale di Foggia, l'Alba, hanno dato esecuzione a 20 ordinanze di costita cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura della Repubblica. I soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi sono a vario titolo gravemente iniziati dai reati di produzione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione legale di armi e furto di autovetture in concorso. Ulteriori quattro indagati sono ancora da catturare. La complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, condotta dalla stazione carabinieri di Sanicandro Garganico, si è sviluppata dall'ottobre del 2013 a febbraio 2014 attraverso un'attività tecnica e numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento del territorio. Nel corso delle indagini sono stati raccolti numerosi e gravi indizi di colpevolezza riferiti alla produzione e al traffico di marijuana. In particolare la sostanza stupefacente veniva prodotta da Pietro Folla nelle piantagioni presenti in alcuni terreni nella sua disponibilità, ubicati nei territori tra Sanicandro Garganico e Chieuti. Era lo stesso Folla che curava la cultura illecita, che poi veniva smerciata all'ingrosso soprattutto da Antonio Altieri ed un altro indagato ancora da catturare. Il volume d'affari degli indagati permetteva di cedere quantitativi pari a un chilo e mezzo di droga alla settimana per un valore pari a 2.000 euro. Lo stesso Antonio Altieri gestiva poi in prima persona un gruppo di giovani pusher alle sue dipendenze che si occupavano di vendere la droga al dettaglio soprattutto nel territorio del comune di Sanicandro Garganico. Le investigazioni hanno permesso anche di svelare una fiorente attività di spaccio di cocaina che veniva nel quartiere San Bernardino di San Severo i cui autori sono stati identificati negli indagati Angelo Marinelli, Luciano Marinelli, Ruggero Bergantino ed un quarto soggetto ancora in libertà. Gli stessi gestivano lo spaccio della propria abitazione effettuando l'accessione ad una rete di fidati acquirenti avvalendosi di telecamere e vere e proprie vedette a tutela di tale commercio illecito. Sono stati inoltre accertati un furto e tre tentativi di furti di autovetture attribuiti ad Antonio Altieri, Marco Canova e Gianpaolo Di Lella finalizzati a compiere rapine di cui uno in particolare è progettato in danno di un negozio di tabacchi però mai portato a compimento. Ad un indagato Nazario Antonio Ciavarella è contestato anche il reato di detenzione e porto abusivo di armi. Infine nel contesto dell'operazione di esecuzione delle misure cautelari a seguito di perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti nella disponibilità dell'indagato Angelo Di Pardo grazie all'osidio di unità cinofile dell'arma circa 100 grammi di sostanza stupefarente del tipo marijuana occultati in varie stanze della sua abitazione.